Ed ora vi mostriamo una campagna di Umberti, idea dell'artista Pierluigi Pozzi Monsignori che ha installato una sua creazione di Land Art in un campo di grano raccolto. Sono state dislocate varie presse non fatte di paglia ma di plastica. Il messaggio dell'artista è chiaro, se non volete che campi come questi diventino realtà, basta con la plastica. L'opera si chiama Plastic Food, il senso, ha detto l'artista, è ridurre i rifiuti, dobbiamo reimpostare la nostra quotidianità. Credo insostituibile un impegno da parte di tutti nel cercare di recuperare e preservare il rapporto con la natura. Noi siamo ai saluti, è tutto per questa edizione, ci rivediamo poco dopo le 23. A tutti voi, grazie per l'attenzione e una buona serata. Arrivederci. Grazie.